Italia, Toscana, cipolla. Qui è l'attività di sospettare le persone che si rinforzano. Ho spaccato la cerniera di un tubino ghiò che mi stava d'incanto. Beatrice è arrivata in fronte. Ma niente, mi stai simpatica. Te no, va bene. Codocca Donatella. Dice, sto troppo male per tenere il bimbo. E me lo levano subito. Non sei sovolgare, ma sei sciocchina, perché a te l'unica cosa di cui hai bisogno è un buon avvocato. Oh, c'è un autobus! Grazie! Questo stronzo ci ha preso per tu puttana. Zitta, zitta, zitta. Zitta, zitta, zitta. Ma, ma! Ma, 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 ma! Signora! Non puoi immaginare il disastro che ha combinato nella nostra vita. Ma adesso basta! Ad di casa. Può dare l'indirizzo. Ma lei lo sa che il suo potrebbe essere un reato? Non puoi immaginare la loro vita. Non puoi immaginare la loro vita. Meno male che ci sei te. Meno male che ci sono io.